Il gruppo di artisti e fine vediamo come il maestro Giacetto Rubicco sta facendo alcuni lavoretti, spettando semplicemente il riciclo. Questo deve essere il futuro e il maestro lo sta portando a conoscenza che il pubblico di Nione gioca parecchiano nella sua attività. Vedete che c'è un altro bambino che si sta tagliando con immagini. Il pubblico di Nione gioca parecchiano nella sua attività di Nione gioca parecchiano. E' un altro bambino che si sta tagliando con la scottola. Il pubblico di Nione gioca parecchiano nella sua attività. Il pubblico di Nione gioca parecchiano in un'altra parte. Non si sta tagliando con la sua attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.